Il prodotto Vacunanex nella sua funzione cappotto sostituisce i cappotti tradizionali mantenendo la stessa performance di isolamento termico ma con bassissimo spessore. Un'applicazione classica ad esempio nei balconi, noi possiamo darvi con 15 mm la stessa capacità isolante ma mantenendo la vivibilità dello stesso. Avevamo un problema fino a oggi, quello di far conoscere a tutti il grandissimo vantaggio del Vacunanex, questo super prodotto che riesce a garantire spessore minimo. Quindi abbiamo deciso di fare una grande campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset e non solo, anche in radio e proprio in questi giorni le radio sono attive con la nostra pubblicità. I risultati fino a oggi, e sono due settimane di campagna pubblicitaria, sono veramente importanti. Abbiamo poi sviluppato una rete di distributori autorizzati che sono ancora da implementare, quindi chi vuole partecipare a questo successo può ancora partecipare e abbiamo questi nostri rivenditori che sono contentissimi, ci stanno raccontando che ricevono chiamate dove magari oltre al nostro prodotto possono essere interessati anche a materiali che loro hanno normalmente in magazzino. Quindi abbiamo creato grandissime opportunità per i nostri rivenditori. Per diventare rivenditori autorizzati, è una cosa semplicissima, bisogna investire in B-Fire. Sostanzialmente bisogna mettere a magazzino una certa quantità di materiale che serve a far iniziare un cantiere. Cioè in pratica dobbiamo garantire a chi vuole iniziare un cantiere con il nostro prodotto di trovare presso il magazzino più vicino il materiale necessario per la partenza e poi provvederà a fornire il materiale successivo per chiudere il cantiere.